E' stata aggredita alle spalle brutalmente palpeggiata da uno sconosciuto e l'incubo vissuto da una donna di 42 anni sorpresa sotto il portone di casa lungo Viale Masini. La polizia è sulle tracce di un italiano sui 25 anni. Due calabresi legati all'Andrangheta e residenti sull'Appennino sono stati fermati dai carabinieri in un'operazione congiunta con i militari di Aosta. I due minacciavano imprenditori valdostani da cui pretendevano il pizzo. Sale di tono a Bologna lo scontro sul caso Lombardelli. L'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto aveva solo la terza media. Il sindaco non lo sapeva. I partiti d'opposizione ricorrono alla Corte dei Contri e qualcuno evoca lo spettro del bono. Non ci saranno miracoli, dice il presidente di Unione Camere, Carlo Alberto Roncarati, ma il nostro sistema industriale ha il motore acceso pronto a raccogliere il vento della ripresa. Per il 2011 crescita lentissima. Vito e Marina Pitta in scena all'Arena del Sole fino all'8 gennaio con Al Dutaur di Matt. Con loro gli attori di Arte e Salute sotto la regia di Nanni Garella. I protagonisti si raccontano a palcoscenico Inca. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con una brutta storia di violenza sessuale avvenuta ieri sera intorno alle 20 lungo Viale Masini. La vittima dell'aggressione è una donna di 42 anni, sorpresa proprio mentre rientrava a casa. La polizia intanto è sulle tracce di un uomo, probabilmente italiano, sui 25-30 anni. Vediamo i dettagli dell'accaduto. Sono armato, se parli ti ammazzo. L'ha minacciata con queste parole mentre l'afferrava alle spalle con forza per metterle le mani addosso e slacciarle i pantaloni. È la terribile violenza sessuale che è andata in scena ieri sera intorno alle 20 lungo Viale Masini. La vittima, una donna di 42 anni originaria di Ancona, ha una piccola attività insieme alla sorella e ieri sera dopo la chiusura stava rientrando a casa quando è stata brutalmente aggredita alle spalle sul portone, proprio mentre stava cercando le chiavi nella borsa. La donna, molto spaventata, ha tentato di farlo desistere dicendogli che c'erano delle telecamere nei pressi. L'aggressore sulle prime si è allontanato ma poi è tornato indietro per strattonarla con più forza. L'ha gettata per terra con il viso premuto sul marciapiede, provocandole la frattura del naso e poi le ha slacciato i pantaloni, toccandole le parti intime. La vittima, terrorizzata, ha gridato chiamando aiuto e a questo punto lo sconosciuto è fuggito. Al capezzale della donna, sotto shock e sanguinante, ha corso un passante che insieme alla sorella della vittima ha chiamato subito la polizia. Quest'ultima ha riferito agli agenti che la donna, pochi istanti prima dell'aggressione, aveva fatto in tempo a suonare il campanello di casa, tanto da permettere alla sorella, attraverso il citofono, di ascoltare la discussione e le grida fra i due. Subito soccorsa, la vittima ha riportato la frattura del naso, più altre contusioni. I medici, che l'hanno visitata al maggiore, le hanno dato 20 giorni di prognosi, ma hanno escluso la violenza sessuale completa. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere indizi importanti, ma per ora l'unica traccia è la descrizione fatta dalla vittima. Si cerca un uomo italiano sui 25-30 anni con i capelli ricci. A dare una svolta alle indagini, comunque, saranno le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, piazzate proprio davanti all'edificio Teatro della Violenza. I carabinieri lanciano un'iniziativa in collaborazione con l'Ordine dei Medici e con l'Ausl per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe. Un argomento, soprattutto in questi giorni, di grande attualità. Giuseppe Piloni. 50.000 volantini per spiegare agli anziani bolognesi che difendersi dalle truffe è possibile. Le hanno stampati i carabinieri e avranno una diffusione capillare attraverso i circa 800 medici di base e le strutture sanitarie del territorio provinciale. Un modo per far fronte, ha spiegato il colonnello Alfonso Manzo, comandante provinciale, è quello che è un fenomeno diffuso e particolarmente odioso che aggredisce una delle fasce deboli della popolazione. L'iniziativa presentente nella caserma Manara è stata realizzata in collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'azienda USL. Grazie all'Ordine dei Medici di Bologna abbiamo stampato circa 50.000 pieghevoli che attraverso la fitta rete di medici di base, oltre 800 che operano nella provincia di Bologna, raggiungeranno tutte le persone anziane, anche quelle ovviamente con problemi sanitari, per metterli in guardia contro i rischi delle truffe, soprattutto delle truffe domestiche, di persone che accedono nelle abitazioni fingendosi false identità. Le truffe agli anziani nelle abitazioni sono sempre più diffuse, è così? È quello che incide maggiormente su questo fenomeno, cioè falsi esattori, falsi operatori di società vari e di servizi vari, falsi operatori di polizia che con pretesti accedono nelle abitazioni, approfittando la buona fede degli anziani che sono particolarmente vulnerabili, per depredarli di ogni bene. Che consigli dare agli anziani? Intanto non aprire mai la porta a sconosciuti e in caso di dubbi servirsi nel nostro volantino dove sono riportati tutti i numeri utili delle principali società per fare delle verifiche al fine di verificare la identità esatta delle persone che accedono all'abitazione. È una iniziativa che è stata promossa dall'Arma dei Carabinieri, quando il colonnello Alfonso Manzo me ne ha parlato abbiamo immediatamente aderito perché intervenire in aiuto e supporto delle persone anziane per i medici è particolarmente importante. Infatti sappiamo che essere oggetto di truffa per persone di una certa età causa di forte depressione, quindi per quanto ci riguarda questa può essere considerata tranquillamente come un'operazione di ausilio e di prevenzione di fasi depressive in cui possono accadere gli anziani. Due calabresi legati all'Andrangheta sono stati fermati dai carabiniere in un'operazione congiunta con i militari di Aosta. I due residenti proprio sull'Appennino bolognese facevano parte di un'organizzazione che minacciava imprenditori valdostani per avere il pizzo. Il servizio di Giuseppe Piloni. Partivano dall'Appennino e andavano a compiere le loro minacce sulle Alpi. Due calabresi legati all'Andrangheta, residenti a Marzabotto e Casteldaiano, sono stati fermati dai carabinieri. Secondo le accuse, i calabresi avrebbero minacciato alcuni imprenditori valdostani da cui pretendevano il pizzo. I fermati sono un 51enne nato a Cittanova in provincia di Reggio Calabria, residenti a Marzabotto, e un altro 51enne di Taurianova in provincia di Reggio Calabria, con residenza a Casteldaiano. I due legati ad un clan avrebbero spedito quattro lettere di minacce fra maggio e dicembre ad un imprenditore di Aosta a cui chiedevano il pagamento del pizzo, pari al 3% del valore di un appalto relativo ad un residence. Durante la fase puramente investigativa abbiamo collaborato con i carabinieri di Aosta del nucleo investigativo attraverso l'attività classica di polizia giudiziaria con peninamenti e appiattamenti, diciamo, quindi anche un'osservazione discreta dei soggetti che erano oggetto di interesse da parte del nucleo investigativo di Aosta. Ripeto, anche a distanza, perché ovviamente la distanza tra Aosta e Vergato non è proprio comoda, e quindi si sono appoggiati a noi per avere una fattiva collaborazione che è stata poi data e i risultati sono arrivati. Allora, questi soggetti, o soggetti calabresi, da tempo trapiantati nella nostra regione, in Emilia Romagna, in particolare nell'apennino bolognese, i soggetti sono stati individuati ovviamente dai colleghi di Aosta e quei soggetti sono stati indicati come coloro che inviavano le lettere minatorie alla vittima imprenditore residente nella zona di Aosta. E torniamo a parlare della vicenda di Marco Lombardelli, l'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto del sindaco di Bologna. Lombardelli aveva ricevuto un inquadramento professionale che proprio per il suo titolo di studio non poteva ricoprire, cioè era pagato appunto per un compito inadeguato. Non sono bastate le sue dimissioni per placare le polemiche e qualcuno evoca anche un nuovo caso del bono. Massimo Ricci. Il caso Lombardelli diventa sempre più un caso politico. Le dimissioni dell'ex responsabile del gabinetto del sindaco Marco Lombardelli, che non aveva il titolo di studio conforme al suo inquadramento professionale, continuano a scatenare il dibattito. Da un lato c'è il grande accusatore, l'ex assessore alla casa Antonio Amorosi, querelato dal sindaco Virginio Merola e controquerelante, sempre nei confronti del primo cittadino. Oggi ha rincarato la dose, chiedendo le dimissioni di Merola, come ha già fatto la Lega Nord, ed evocando lo spettro della vicenda del bono, che in casa PD fa ancora tremare i polsi. Il Partito Democratico, appunto, oggi il coordinatore di giunta Matteo Lepore ammette che qualcosa non ha funzionato, mentre il capogruppo in comune Sergio Lo Giudice ipotizza che tutto sia nato da una svista degli uffici comunali. Difende Lombardelli anche il segretario regionale del PD Stefano Bonaccini, dimettendosi a fatto un gesto di grande responsabilità, scandisce, Merola darà eventuali ulteriori chiarimenti. L'imbarazzo della maggioranza ringalluzzisce l'opposizione. Questa mattina il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord hanno depositato l'annunciato ricorso alla Corte dei Conti. Un atto dovuto, spiega la consigliera comunale del Carroccio, Lucia Borgonzoni, si tratta di risorse pubbliche e non c'è nessun tipo di accanimento personale. Mentre il commissario provinciale, Manes Bernardini, chiede ora a Merola di indicare un capo di gabinetto tra i 70 dipendenti comunali e non un esterno, come pare da indiscrezioni stampa. Più morbido nei confronti di Merola il PDL, sproporzionato chiederne le dimissioni, dice il consigliere regionale Galeazzo Bignami, ma tutto cambierebbe se fosse provato che c'era un parere negativo degli uffici, ignorato poi dal sindaco. Del caso hanno parlato oggi anche i sindacati. Il leader bolognese della CGL Danilo Gruppi dichiara a Radio Tau che Lombardelli non meritava questo trattamento. Gli fa eco il segretario provinciale della CISLA, Alessandro Alberani, sono dispiaciuto per come è stato trattato. Lombardelli ha la mia piena solidarietà. E torniamo purtroppo a parlare di crisi. In Emilia Romagna la crescita è ferma, lo 0,9% e parlare di ripresa è ancora prematuro. Ma da Union Camere arriva però un messaggio di timido ottimismo. Vediamo il quadro in questo servizio. Una mini ripresa nella prima parte dell'anno che però ha subito negli ultimi mesi del 2011 una brusca battuta d'arresto. Un aumento reale del PIL che dovrebbe fermarsi allo 0,9% ed una prospettiva di assoluta stagnazione per il 2012. Assomiglia vagamente ad un paesaggio lunare il quadro dell'economia in Emilia Romagna dipinto da Union Camere Regione. Soffre più degli altri il mercato delle costruzioni, rallenta l'export, la domanda interna è letteralmente ferma e l'accesso al credito da parte delle imprese resta oggi un ostacolo insormontabile, spesso un miraggio. L'unico settore a chiudere il 2011 con il segno meno è l'edilizia. Ma per il 2012 tutti i settori saranno in negativo mentre l'unica eccezione sarà il terziario. Sul fronte lavoro la prospettiva sembra più rosea con una crescita dell'1,5% degli occupati e con un leggero calo delle persone in cerca di un lavoro. Per il futuro però la ricetta di Union Camere e Regione è quella di puntare sulle specializzazioni professionali privilegiando così l'assunzione di giovani laureati. Spero e credo che rapidamente si ricostituirà un terreno favorevole perché ci sarà un credito accessibile soprattutto nel costo. Probabilmente la Banca Centrale Europea e anche del governo italiano che garantisce le emissioni di titoli da parte del sistema bancario nazionale sicuramente aiuteranno. Nel settore delle edilizie e delle costruzioni sarebbe uno slancio fondamentale. Ho citato alcune opere strategiche, il passante di Bologna, la Bretella, ma in particolare la Cispadana che è l'opera regionale per eccellenza più pronta. Partissero avremo già un segnale positivo del PIL dell'Emilia Romagna per il prossimo anno quindi questo è già un dato positivo. Riteniamo che il nostro sistema imprenditoriale e industriale avrà le condizioni per poter sfidare le difficoltà di questa fase e cercare di continuare a crescere e dare occupazione. Prorogate fino al 31 dicembre 2012 da parte della regione Emilia Romagna le cosiddette misure anticrisi sul fronte sanitario. La proroga riguarda l'esenzione del pagamento dei ticket su visite ed esami specialistici per i lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione l'erogazione di farmaci di fascia C a componenti di famiglie che si trovano in una situazione di forte disagio economico-sociale. L'esenzione dal ticket riguarda i lavoratori residenti in Emilia Romagna che hanno perso il posto di lavoro a partire dal 1 ottobre 2008 che si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinario, in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà. L'esenzione riguarda anche i familiari a carico, la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C, riguarda i componenti di famiglia in situazioni di estremo disagio sociale, individuate o in carico ai servizi sociali dei comuni. Ed ora parliamo di calcio. Il Bologna scenderà in campo questa sera alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Naturalmente il tecnico Pioli punta a chiudere in bellezza il 2011, ma per saperne di più ci colleghiamo con Sabrina Orlandi che si trova naturalmente allo stadio. Buonasera Sabrina. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Come dicevi te, il Bologna punta questa sera a fare il bottino pieno contro la Roma anche perché è reduce dalla sconfitta di Genova. Non è una partita semplice perché a sua volta la Roma è in un grande momento di forma, reduce dalla bella vittoria al San Paolo contro il Napoli, ma il Bologna cercherà di non sbagliare anche perché è in un periodo di buona condizione fisica, lo hanno dimostrato le prestazioni anche di Genova nonostante la sconfitta, in particolare contro il Milan e contro la Juventus. Quindi sarà una partita a viso aperto tra due squadre che stanno bene. La Roma è una formazione, quest'anno formata da molti giovani, sicuramente di prospettiva, squadra molto interessante che però alterna ottime partite ad altre in cui magari commette errori. Ed è proprio lì che Pioli vuole che il Bologna si infili cercando di sfruttare le debolezze avversarie. Per quanto riguarda la formazione sappiamo con certezza che non ci sarà Muddingai lasciato in panchina perché non in buone condizioni, mentre torna titolare dal primo minuto Diego Perez in mezzo al campo, aveva saltato Genova per squalifica. Qualche dubbio legato alla difesa, al centrale che affiancherà Portanova, il ballottaggio tra Raggi e Antonson, a sinistra invece dovrebbe tornare Morleo al posto di Cherubine schierato a Genova. Si comincia alle 20.45, soprattutto dopo le lamentele della società in questi giorni per i torti arbitrali, si spera che questa sera non ci siano episodi dubbi sfavorevoli al Bologna. C'è l'arbitro De Marco che già in passato aveva avuto qualche problema nei confronti del Bologna con il rigore assegnato per il tuffo di Krasic che non era assolutamente fallo. Comunque, dopo partite in cui l'arbitro è stato protagonista, si spera questa sera che lo sia solo il campo e il calcio giocato. Si comincerà intorno alle 20 con solo calcio per seguire ovviamente tutta la prima giornata di campionato, questo è il recupero della prima giornata saltata per lo sciopero a fine agosto, mentre su Radio Nettuna, a partire dalle 20.30, Radio Cronaca Integrale di Bologna-Roma e a seguire ovviamente tutto il post partita in diretta su ETV. Ricordo anche per gli appassionati di basket sul canale Sport 292 di ETV ci sarà invece in diretta la partita di basket di Lega 2 tra Reggiana e Conad, quindi per gli appassionati di basket 292 Reggiana-Conad in diretta, mentre sul canale 10 di ETV Rete7 solo calcio per seguire la prima giornata di campionato. È tutto, a te Simona. Grazie a Sabrina Orlandi collegata dallo stadio un aumento di circa 5 euro a persona all'anno per una famiglia tipo di 5 persone di circa 10 euro all'anno per i single. Questo l'ordine di grandezza per i rincari sulle tariffe dell'acqua a Bologna che domani avranno il via libera da Atolente preposto. Secondo l'assessore competente Luca Rizzo Nervo poteva andare anche molto peggio solo sull'anno avremmo avuto rincari del 25% ma spalmati nel quinquennio saranno molto meno impattanti ha detto appunto Rizzo Nervo. Ed ora ci fermiamo per un attimo arriva la pubblicità restate con noi. Ancora in diretta dagli studi di ETG rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale è stata aggredita alle spalle brutalmente palpeggiata da uno sconosciuto è l'incubo vissuto da una donna di 42 anni sorpresa sotto il portone di casa lungo via Le Masini la polizia è sulle tracce di un italiano sui 30 anni. Due calabresi legati all'Andrangheta e residenti sull'Appennino sono stati fermati dai carabinieri in un'operazione congiunta con i militari di Aosta i due minacciavano imprenditori valdostani da cui pretendevano il pizzo. Sale di tono a Bologna lo scontro sul caso Lombardelli l'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto aveva solo la terza media il sindaco non lo sapeva i partiti d'opposizione ricorrono alla Corte dei Conti mentre qualcuno evoca lo spettro del bono. Non ci saranno miracoli dice il presidente di Union Camere Carlo Alberto Roncarati ma il nostro sistema industriale ha il motore acceso pronto a raccogliere il vento della ripresa per il 2011 crescita lentissima per il 2012 stagnazione. Vito e Marina Pitta in scena all'Arena del Sole fino all'8 gennaio con Aldo Taur di Matt con loro gli attori di Arte e Saluta sotto la regia di Nanni Garella i protagonisti si raccontano a palcoscenico in e tra pochi giorni è Natale naturalmente anche a Bologna le famiglie si preparano a festeggiare e sono tante in programma le celebrazioni liturgiche e anche quest'anno come sempre ETV le trasmetterà in diretta per tutti Massimo Ricci Natale 2011 anche ETV farà la sua parte per portare nelle case dei bolognesi le più importanti liturgie del Natale prima di tutto il messaggio di auguri del Cardinale Carlo Caffarra durante il nostro telegiornale di sabato alle ore 19.20 mentre il giorno di Natale l'Arcivescovo proporrà alcune riflessioni sulla nascita di Gesù in onda dopo i telegiornali delle 13.45 e 19.20 la nostra emittente poi trasmetterà in diretta dalla Cattedrale di San Pietro la Santa Messa del giorno di Natale alle 17.30 su ETV anche il solenne Tedeum di fine anno in programma al 31 dicembre alle ore 18 nella Basilica di San Petronio la diffusione televisiva in questo caso sarà indifferita ma il Cardinal Caffarra presederà anche la Santa Messa della Notte di Natale a mezzanotte nella Cattedrale di San Pietro la Messa sarà preceduta da un concerto ed apriamo la pagina dello spettacolo perché Stefano Bicocchi in arte vito sarà al Dutaur di Matta all'Arena del Sole fino al prossimo 8 gennaio con lui Marina Pitta e gli attori di Arte e Salute Alessia Salvatori nel pomeriggio ha fatto una lunga chiacchierata con i protagonisti dal set di palcoscenico Al Dutaur di Matta Allora parliamo un attimo della storia anche se sicuramente molti dei nostri telespettatori la conoscono però insomma rinfreschiamo un po' la memoria La storia è la storia di sempre del ragazzo scapicollato che dice di studiare in città di essere diventato dottore di aver preso una laurea di gestire uno stabilimento con 15 matti in cura e si fa mandare i soldi dallo zio da Felice di Torrimbocca di Marzabotto ricco possidente terriero credulone entusiasta del fatto che il nipote ha studiato quindi grato per la soddisfazione che in paese gli è arrivata dopo che il nipote ha preso la laurea l'orgoglio della famiglia fino a che non va a Bologna e scopre che tutto questo non è vero ma dopo un bel po' perché il nipote gli fa credere di essere veramente il dottore di questo stabilimento che in realtà è la pensione dove lui vive con questi personaggi strani pensione gestita da Marina da Marina Pitta con sua figlia che cerca di ammollarla a tutti la figlia per farla sposare bene e i comportamenti normali un po' particolari degli abitanti di questa pensione ecco inducono lo zio a credere di essere in un vero manicomio quindi questa situazione di equivoci viene fuori molto bene un quimpro quo continuo continuo fino alla fine quando si svela il fatto che insomma è stato bugerato lo zio non cominciare con la buonanima di tuo marito fama al piaseo e proprio Vito sarà tra i protagonisti di palcoscenico in questa sera alle 23 circa sul canale 10 nuovo appuntamento quindi con i teatri in compagnia di Alessia Salvatori questa sera si parlerà anche dello schiaccianoci portato in scena all'Europa dal balletto di Sofia con la musica di Tchaikovsky ma anche del dialetto al consorziale di Budrio con Carla Stolfi ampio spazio come detto anche alla comicità di Vito Marina Pitta e gli attori di arte e salute che si esibiranno con al duttore di Matt di Nanni Garella tratto dal medico dei pazzi di Duardo Scarpetta appuntamento quindi questa sera con palcoscenico in alle 23 circa sempre ovviamente sul canale 10 ed ora la pubblicità ancora in diretta dagli studi di ETG per rileggere insieme i titoli è stata aggredita alle spalle brutalmente palpeggiata da uno sconosciuto è l'incubo vissuto da una donna di 42 anni sorpresa sotto il portone di casa lungo viale Masini la polizia e sulle tracce di un italiano sui 25-30 anni due calabresi legati all'Andrangheta residenti sull'Appennino sono stati fermati dai carabinieri in un'operazione congiunta con i militari di Aosta i due minacciavano imprenditori valdostani da cui pretendevano il pizzo sale di tono a Bologna lo scontro sul caso Lombardelli l'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto aveva solo la terza media il sindaco non lo sapeva i partiti d'opposizione ricorrono alla Corte dei Conti mentre qualcuno evoca lo spettro del bono non ci saranno miracoli dice il presidente di Union Camere Carlo Alberto Roncarati ma il nostro sistema industriale ha il motore acceso pronto a raccogliere il vento della ripresa per il 2011 crescita lentissima per il 2012 stagnazione assoluta Vito e Marina Pitta in scena all'Arena del Sole fino all'8 gennaio con Aldutaur di Matt con loro gli attori di Arte e Salute sotto la regia di Nanni Garella i protagonisti si raccontano a palcoscenico ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi Ria TV un buon proseguimento grazie per la visione